Una tela preparata per la pittura ad olio e qui abbiamo una quantità di colore necessaria per stendere questo fondo azzurro. La miscela è quella di blu di cobalto, di bianco di titanio, con una punta di lacca di garanza per renderlo meno caldo. Questo fondo, dicevo, è stato preparato in un video precedente e vi metto qui il link in alto, in modo che possiate andare a vedere tutto il procedimento. E adesso io vado a stendere questo azzurro su tutta la superficie del dipinto, per iniziare il nostro paesaggio. Andrò ad usare due colori, per adesso, che sono il bianco di titanio e un poco di lacca di alizarina, che però io tengo in alto e non so se userò, perché mi serve nel caso io voglia, diciamo, rendere ancora un poco più freddo il fondo. Comunque questo preparato, ovviamente, azzurro, che metto qui sulla tavolozza, diciamo, verticale, è lo stesso che ho usato per il fondo. E, naturalmente, io devo costruire un orizzonte. Per costruire un orizzonte, devo tener presente che vi è una successione di monti. Questa successione di monti, io la percepisco, perché ne ho avuta esperienza, in tonalità azzurra. E, quindi, questa tonalità azzurra, io devo diversificarla, mettendo del colore più chiaro, alla base, all'inizio, diciamo, delle montagne e, ovviamente, alla base delle montagne che io starò disegnando. Perché, come dice Leonardo, l'aria, lui la chiama più grassa, ovviamente, fa sì che la base dei monti che io vedo in lontananza sarà più chiara della loro sommità. Per cui, cosa devo fare? Devo agire in due modi, tenendo scura, appunto, la parte superiore. E, qui, mi sono aiutato, mettendo un poco di blu oltremare, vedete che l'ho appoggiato sulla tavolozza, mischiato a tutto l'azzurro che io posso ottenere, con il risultato della mescolanza, nella parte superiore, dove ho messo proprio il tono del fondo del dipinto e, ovviamente, il bianco, che mi serve sia per opacizzare e sia per, diciamo, stemperare questo colore. Adesso, qui, ho messo del verde cinabro e, sopra, ho messo un poco di blu phtalo e, con questi due colori, io faccio, eseguo, la parte sottostante, che, ovviamente, è un poco meno blu, meno azzurra, di quella precedente, perché io, perché essa è vicino a me. Ovviamente, noi, quando parliamo di prospettiva cosiddetta aerea, cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che è la prospettiva dettata dalla percezione che noi abbiamo dello spazio e, quindi, delle molecole dell'aria che si riflettono e si espandono in maniera particolare e, riflettendosi, ovviamente, più grossa, come dice Leonardo, è l'aria, più questo riflesso dell'azzurro del cielo cade su quello che è sottostante e, quindi, ovviamente, i riflessi in lontananza, noi li percepiamo blu e, quindi, percepiamo blu tutti i colori. Leonardo va a dire, nel capitolo 449, dell'azzurro di che si mostrano essere i paesi lontani. Delle cose remote dall'occhio, le quali siano di che color si voglia, quella si dimostrerà di color più azzurro, la quale sarà di maggiore oscurità naturale o accidentale. Naturale è quella che è oscura da sé, accidentale è quella che è oscurata mediante l'ombra che le è fatta da altri oggetti. Per cui, cosa vuol dire? Vuol dire che, ovviamente, il nostro occhio, non percependo l'ombra degli altri oggetti, ma, ovviamente, un riflesso indistinto dell'aria che vede in lontananza, ha questa percezione di colore di cui, ovviamente, noi tutti abbiamo fatto esperienza. Io, questo paesaggio che sto facendo è, ovviamente, un paesaggio pensato, un paesaggio che ho nella testa e che mi sono disegnato tantissime volte nella testa. Disegnato nella testa, cosa vuol dire? Vuol dire che ne ho fatto esperienza, osservandolo e disegnandolo e dipingendolo molte volte. Per cui, io lo propongo così, come me lo ricordo, facendo, tenendo fede con ciò che io ho visto e, quindi, vi posso mostrare, ovviamente. Questo esercizio, soprattutto quello dell'osservazione, è fondamentale, perché, di fatto, Leonardo, che cos'è, se non un osservatore? Lui propone, si propone di osservare la natura e non scopre nulla. Non è che Leonardo sia uno scopritore, abbia scoperto qualche cosa, ha avuto sicuramente molta più curiosità, perché quanti sono i fenomeni che noi vediamo e perché, ovviamente, non dobbiamo replicare, non diamo caso ad essi. Ma, se noi dessimo caso a tutti i fenomeni che noi vediamo e che possiamo replicare, innanzitutto ci staccheremo da quella che è una visione mediata della fotografia o dell'immagine filmica e, quindi, faremo esperienza con i nostri occhi e i nostri occhi ci potrebbero dare delle risposte, se non altro, degli stimoli ad osservare qualche cosa e a non dar per scontato come una cosa può essere vista e come può essere rappresentata. Dei termini inferiori delle cose remote, questo lo abbiamo forse già accennato, però è interessante poterlo riuscire a riportare a galla, in questa occasione, e a cercare di comprendere come noi possiamo osservare le cose e come poterle poi, quando noi siamo davanti al cavalletto, replicare, perché proprio le comprendiamo, ne comprendiamo il significato visivo. Adesso io mi sono dilungato in questa spiegazione, però tenete sempre gli occhi nel dipinto e quindi vedete che io passo e da queste mescole con cinabro blu ftalo e blu cobalto mischiato, ovviamente, alla lacca di garanze, in quella famosa mescola che mi è servita per fare il fondo e determino questo colore che non è verde puro, ovviamente, ma non è neanche azzurro, è una via di mezzo che mi serve non a scalare in maniera proprio formale, graduale, eccetera, eccetera, però a dare un taglio diverso e diversificato a quelli che sono i, diciamo, i livelli delle montagne che io ho davanti. Come vedete vi è un livello più profondo, un livello meno profondo e un livello più vicino, molto più vicino e quindi più presente, che mi dà la possibilità di creare questa lontananza, che poi verrà accentuata anche dalle nuvole che noi metteremo sopra, però volevo leggervi questa cosa interessante, questa osservazione che fa Leonardo, perché può esserci utile a cercare proprio di avvicinarci alla natura e di osservare il comportamento della luce e del colore, perché non è il solo personaggio che ha osservato e ne ha tratto veramente una lezione grandissima, perché ve n'è un altro di cui vi parlerò più avanti. Ma adesso abbiamo nel capitolo 447, diciamo di questa raccolta del trattato della pittura, mentre, e qui vediamo che è comparso il colore giallo di cadmio, che concorre a eseguire il colore del piano più vicino di tutti quelli che noi stiamo facendo e quindi, ovviamente, a costruire un colore anche qui, che non sarà necessariamente verde, ma sarà mediato e sarà pieno di quello che è il colore di fondo, che è quell'azzurro che dà un tono freddo e quasi opaco alla costruzione di questo primo piano, dove poi noi andremo a mettere le luci. Però, questa costruzione che stiamo facendo in questo momento, noi la stiamo facendo su una superficie fresca. Non ho dato il fondo e ho lasciato asciugare, no, ho dato il fondo e sto dipingendo sul fondo che io ho dato, quindi sto dipingendo sul colore fresco. Adesso io mi accingo a dipingere le nuvole, o meglio, a dipingere gli spazi che le nuvole terranno, che le nuvole manterranno nel cielo e quindi sto cominciando a costruire quelli che saranno, diciamo, gli ingombri, ecco, gli ingombri che in cui io poi costruirò le nuvole. E questo passaggio che sto facendo in questo momento, ripeto, lo faccio sul colore fresco del fondo, perché questo mi dà la possibilità di sfumare e di capire meglio come io possa riuscire a integrare il bianco delle nuvole con la superficie sottostante. Vedete, non ho usato, come ho fatto altre volte, un fondo giallo per le nuvole, perché io voglio proprio che siano fredde, che siano molto più fresche questa volta e quindi mi atterrò solo al fondo che ho dato precedentemente e che mi aiuta, in questo caso, a sfumarle. Poi tutto questo, tutta questa preparazione che io sto facendo in questo momento, ovviamente avrà un tempo più lungo di asciugatura, perché lo, perché il colore che ho messo sopra è un poco di più. Quindi mi occorreranno tre giorni prima che io riesca a dipingere come voglio sul fondo che io sto preparando in questo momento. In questo momento sto inventando queste nuvole che dovrebbero darmi la possibilità di avere una superficie in cui si percepisce la lontananza. I termini inferiori delle cose remote saranno meno sensibili che i loro termini superiori, dice Leonardo, e questo accade assai alle montagne e ai colli, le scime dei quali si facciano campi delati alle altre montagne che sono dopo loro, e da queste si vedono i termini di sopra più spediti che le loro basi, più spediti più chiari, ovviamente, più scuri, più netti, più definiti, ecco, definiti. E quindi perché il termine di sopra è più oscuro? Per essere meno occupato dell'aria grossa, la quale sta nei luoghi bassi, e questa è quella che confonde i detti termini dalle basi dei colli. ed il medesimo accade negli alberi e negli edifici ed altre cose che si innalzano infra l'aria, e di qui nasce che spesso le alte torri, vedute in lunga distanza, paiono grosse, da capo e sottili ai piedi, perché la parte di sopra mostra gli angoli dei lati che terminano con la fronte, perché l'aria sottile non te li cela come la grossa a quelli da piedi. E questo accade per la settima del primo che dice dove l'aria grossa si interpone in fra l'occhio il sole è più lucente in basso che in alto e dove l'aria è più bianca essa occupa all'occhio più le cose oscure che se tale aria fosse azzurra, come si vede in lunga distanza i merli delle fortezze avere gli spazi loro uguali alla larghezza dei merli, e pare assai maggiore lo spazio che il merlo, ed in distanza più remota lo spazio occupa e cuopre tutto il merlo, e tal fortezza sol mostra il muro diritto e senza merli. La prospettiva aerea, pensata da leonardo e attuata nei suoi dipinti, è la rilevazione di quel fenomeno che viene chiamato ora Rayleigh scattering, ma prima di parlare di questo, di definire un poco questo questo fenomeno in maniera semplice, vorrei farvi notare come la costruzione di queste nuvole è condotta essenzialmente proprio per costruire una base su cui poi facilmente io posso in un secondo momento mettere il chiaro e lo scuro. Più che parlare di scuro bisognerebbe parlare di un blu un pochino più profondo, perché scuri, nel vero senso della parola, non ve ne sono in questo cielo, perché viene inondato dalla luce e quindi le nuvole stesse hanno una conformazione e una, diciamo, è una rappresentazione nel cielo che io ho percepito così e quindi così voglio portare fino in fondo, ovviamente. Questo mi serve da base, dicevo, per poi costruire le nuvole successivamente, quindi io cerco di capire quali sono i chiari e gli scuri e poi ovviamente do più sostanza al colore. Una volta finita questa operazione, io lascio riposare il dipinto, in questo caso tre giorni e adesso, in questo momento lo riprendo e lo riprendo solo nei chiari per adesso, poi andrò a intervenire ancora con qualche piccola tonalità di blu, di blu cobalto, oppure del blu che ricordo della miscela blu cobalto, lacca di garanza e bianco di titanio che io ho posato in alto sulla tavolozza, ma mi servirò essenzialmente di questo bianco, del bianco di titanio, per riuscire a costruire le nuvole. Parlo sempre di costruzione, più che di pittura, perché io la vedo proprio così, vedo la pittura come una ricostruzione della realtà o della mia interpretazione della realtà, mediata appunto dall'osservazione che io ho della natura, o meglio di quello che io riesco a capire e a percepire della natura, e quindi attraverso di essa io posso riuscire a comprendere come posso usare la natura per riuscire a parlare di me attraverso il segno e questo lo sto facendo in questo momento, usando, diciamo un bruttissimo termine, usando la nuvola per esprimermi. Ma ritorniamo al discorso che facevamo prima, sul colore e sulla luce, che è interessante. Il fenomeno Rayleigh scattering è praticamente la nostra percezione del colore blu, che la vista umana ha, del colore blu dato dalla distorsione atmosferica, e chiaramente da la restituzione che ne hanno i nostri occhi nella nostra visione, e quindi abbiamo chiamato questo effetto in questo modo. Praticamente è una sorta di effetto di rimbalzo, di diffusione atmosferica, ma vediamo in maniera semplice come funziona. Abbiamo visto che si tratta di una distorsione atmosferica, quindi di qualcosa che noi percepiamo, e quindi dei limiti anche della nostra vista dell'uomo. E quindi questo fenomeno inizia e parte dal sole, perché dal sole che arrivano i raggi e impiegano, come sappiamo, otto minuti e venti secondi per arrivare sulla terra. Ovviamente tutti questi colori che sono all'interno della luce bianca hanno delle lunghezze d'onda distinte. La luce rossa, ad esempio, ha la lunghezza d'onda più lunga che le altre, e la, per esempio, la luce blu ha una delle lunghezze d'onda più corte. Le cose sono particolari e interessanti quando questa luce colpisce l'atmosfera. Le lunghezze d'onda più corte colpiscono le molecole d'aria e vengono diffuse, vengono disperse da queste, quindi rimbalzano da una all'altra e poi vengono, ovviamente, restituite alla nostra vista. Questa questa dinamica fra le lunghezze d'onda della luce e le molecole dell'aria viene trasmessa a noi e colpisce i nostri occhi da infinite direzioni. La luce blu ha una delle lunghezze d'onda più corte di tutto lo spettro. Significa che il colore blu si disperde maggiormente nell'atmosfera. Il sole rilascia meno onde di lunghezza viola, ma gli occhi umani rivelano, sono più sensibili al blu e quindi lo percepiscono maggiormente. E quindi noi, semplicemente, vediamo questo, diciamo questo, questo movimento, questo, questo scontrarsi di questi elementi, che restituiscono a noi questo fenomeno. A noi non ci interessa molto, ovviamente, sapere come avviene in maniera scientifica, però il fatto di poter comprendere queste cose, secondo me è anche importante per un pittore. Quindi, quando noi guardiamo un paesaggio, c'è molto spazio, molta atmosfera tra i nostri occhi e la montagna che stiamo guardando, per cui la quantità aumenterà, ovviamente, con la distanza. Più aria, quindi significherà più molecole d'aria, il che significa più diffusione della luce. Quindi, man mano che lo spazio fra noi e la montagna che guardiamo si allarga, questa, o si allunga, diciamo, che viene proprio ad allontanarsi da noi, più questa diventerà blu e, ovviamente, sarà la sua lontananza maggiore, molto molto debole, fino a che non scompare proprio dalla vista e si fonde completamente con il cielo. Chiaramente, Leonardo aveva capito questo fenomeno e lo riteneva fondamentale, per chi stava dipingendo qualche cosa che assomigliava a un percorso verso il naturalismo. Quindi, il passaggio da un paesaggio molto simbolico, quello medievale, ma lo è anche quello rinascimentale, fino a diventare un paesaggio to cure, cioè preso per quello che è, con degli strascici simbolici, per forza, e lo saranno ancora per tutto il Seicento, però, con la possibilità che lui ci dà di darne una lettura più precisa e quindi più più familiare ai nostri occhi. Quando guardiamo queste prospettive aeree, nei suoi dipinti o nei dipinti di coloro che comprendono questo 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 problema, la risoluzione di questo problema e lo attuano, noi abbiamo l'impressione di avere davanti a noi un un paesaggio familiare, appunto, riconoscibile. Quando io costruisco una nuvola, ovviamente, tengo anche conto di questo, del fatto che la lontananza della nuvola ha a che fare con l'atmosfera e con l'aria e con le molecole che la compongono, e, ovviamente, restituisce a noi una forma, la nuvola, che molto spesso è assolutamente inaspettata e inattesa. Ma se noi l'andiamo ad osservare in maniera più da vicino, e più vicino non intendo andarci a buttare in mezzo alle nuvole, ma proprio a portare la nostra attenzione su di essa, noi riusciamo a rappresentare anche quelle che sono delle nuvole che vanno fuori dagli stereotipi della nuvola. Ecco, è fondamentale, secondo me, quando si dipinge e anche si inventa un paesaggio, cercare di slegarsi dagli stereotipi. Quando noi disegniamo una casa che non siamo, ovviamente non siamo capaci a disegnare, ma vogliamo far capire a un'altra persona che quello che stiamo facendo è una casa, usiamo un simbolo, cioè un quadratino, e poi gli mettiamo un tetto e immediatamente tutti quanti riconosciamo che quella è una casa. E, ovviamente, se noi disegniamo una nuvola, facciamo la classica, la classica, le classiche rigonfiamenti che determinano la nuvola, perché tutti quanti dicono quella è una nuvola. Quindi, da un punto di vista simbolico, noi abbiamo centrato il nostro obiettivo, che è quello di farci comprendere. Però, se io guardo una casa, come guardo una nuvola, nessuna casa o nessuna nuvola, ammesso che non si tratti proprio di una capanna o di qualche formazione nel cielo, proprio assolutamente inaspettata e imprevedibile, possa essere come la simbologia che rappresento nei miei disegni piccoli, o per farmi intendere. Quindi, noi quando andiamo a fare un percorso di osservazione, noteremo che ci sono dei fenomeni naturali che, delle volte, sono inspiegabili persino a chi sta guardando un dipinto, o meglio, per chi sta guardando il cielo direttamente. Figuriamoci poter riuscire a dipingere le nuvole dentro un dipinto, facendo credere proprio che proprio quella nuvola possa essere accaduta e possa essere successa in quel modo. Ecco, solo l'osservazione ti dà la possibilità di sviluppare questa questa conoscenza, ma non solo per quanto riguarda la nuvola, anche per come si comportano gli alberi, le fronde degli alberi, per come si comportano le montagne, quando non le vediamo da vicino o da lontano, qualsiasi fenomeno naturale, perché è la luce che colpisce su di esso, la colpisce in un certo modo, e se noi riusciamo a capire il meccanismo di rifrazione della luce sull'oggetto, e poi naturalmente della luce che l'oggetto emana e che butta fuori da sé in termini di ombra o di luce riflessa, allora noi possiamo capire, possiamo comprendere come poterlo dipingere. Adesso vedete, io ho il pennello pochissimo sporco di bianco di titanio, e lo frego, diciamo, sulla tela, in modo da riuscire a disegnarla proprio questa atmosfera, e quindi a cercare proprio di farla diventare presente, e di farla, e di comprendere come può comportarsi, e che come può riuscire ad essere simile all'esperienza che io ho vissuto, senza essere uguale, senza essere una copia, ma un'esperienza di ciò che ho vissuto, e quindi di costruire qualcosa che possa essere possibile. non qualcosa che possa essere impossibile da accadere. Un'altra cosa che la pittura, un'altra possibilità che la pittura ci dà, è quella proprio di costruire uno spazio maestoso, nel senso proprio di grande, sopra di noi. C'è una tela piccola, come in questo caso, ha la possibilità di avere all'interno uno spazio grandissimo, e questa costruzione è una costante, deve essere una costante, per riuscire a interpretare la possibilità che abbiamo noi di determinare la profondità, in uno spazio che è limitato solo all'altezza e alla larghezza. Adesso è fondamentale agire anche, come ho fatto con l'orizzonte, che va a cadere sopra la prima cima delle nuvole, io debba agire con con lo schiarire, anche quelle che sono le basi delle nuvole, delle varie parti che compongono i livelli del dipinto che io sto facendo. Quindi, con il pannello veramente quasi proprio pochissimo, pochissimo intriso di colore, quasi proprio a sfumare in questo modo, io posso poi determinare, ovviamente, l'intensità più o meno dell'ombra che io voglio fare, del chiarore che io voglio mettere, e quindi determinare proprio le le montagne e costruire quell'effetto di chiarore, tra di esse, quindi lungo tutta la loro percezione dello spazio che noi abbiamo all'orizzonte. E' chiaro che poi, ovviamente, io questo lo determino, lo schiarisco, lo scurisco come desidero, senza avere nessun problema, perché la pittura d'olio, questa possibilità ce la dà in maniera in maniera totale, rispetto anche alla pittura ad acrilico. E quindi, a me capita spesso, e quindi lo vedete anche qua nel dipinto, di dipingere una parte di quadro, pensando poi a come potrei intervenire su quella successiva o a fianco. Questa è cosa che a me capita spesso, e quindi stavo pensando come riuscire a rendere questa questa massa di nuvole che ho sopra, che troviamo qua in mezzo al cielo, e stavo ragionando appunto sopra questa parte centrale. Vedete, adesso sto intervenendo con il colore, con questa miscela di cobalto, lacca di garanza e bianco di titanio, per riuscire a ricostruire di nuovo la nuvole in mezzo, che mi piaceva che avesse un tipo di forma particolare. Mi piaceva proprio questo incavo scuro, che si trova in mezzo, riuscire a dargli una importanza più rilevante, all'interno proprio dell'economia del dipinto stesso. Prima vi ho accennato ad un altro personaggio di cui vi vorrei parlare, e questo personaggio si chiama Jan Evangelista Pulchini, è una persona che a voi dirà pochissimo, però ha fatto delle scoperte interessanti, mentre io qui adesso ho messo l'ocra gialla, che era già presente prima, è improvvisamente spuntata, e la terra verde, che mi darà la possibilità di agire adesso per la costruzione della superficie più vicina a noi. Parlavo di questo personaggio, di questa persona che si chiama Jan Evangelista Pulchini, ed è uno scienziato, un scienziato che studiò medicina, e quindi si specializzò in moltissime cose, diciamo una persona molto curiosa, un osservatore. Ecco, a noi ci piacciono queste persone, un osservatore. E lui osservò un fenomeno, osservò un fenomeno che viene chiamato ancora oggi come effetto Purchinie. L'effetto Purchinie è praticamente la tendenza dei nostri occhi, a percepire i colori in maniera diversa, a seconda della luminosità, e quindi della quantità di luce che è presente in un luogo. Ad esempio, le tonalità di rosso scompaiono molto prima di quelle azzurre e di quelle verdi. Questo lui scoprì, ed è interessante, perché se ci fate caso, quando viene la sera, ad esempio prendiamo un fiore molto rosso, quando viene, in caso di forte luminosità, noi abbiamo proprio quest'idea di questa grande risalto. Pensiamo al campo di papaveri di Monet, ad esempio. Noi abbiamo questo grande risalto di questo colore, mentre alla sera, in quasi assenza di luce, il colore rosso si trasforma in colore scuro, mentre il colore verde riesce ancora a farci ritornare qualche gradazione di verde, e quindi risulta più luminoso. Tante cose questo, questo scienziato è interessante e particolare per una sua vita incredibile, se volete andarvele a leggere, vi sono parecchi sunti sulla sua vita, anche per dire scoperto, nel 1823, che le impronte digitali erano interessanti, potranno essere utilizzate per identificare gli individui. Una carriera straordinaria, però io, per quanto mi riguarda, l'ho conosciuto a scuola, me lo hanno fatto conoscere, per questo tipo di scoperta che lui ha fatto. E in questo dipinto, io volevo un po', un poco, anche se è completamente giorno, usare, sì, un poco di ocra gialla, intanto ho fatto anche comparsa il carminio poco sotto, lo vedete che mi servirà poi per determinare alcuni scuri. Mi interessa, però vorrei non usarlo in maniera, in maniera sistematica, anzi, penso che proprio abbasserò questo tono, in favore di una luce opacizzata, quasi, che mi restituisca una luminosità più fredda. E questo è il tono che vorrei dare complessivo al dipinto. Vedete, io abbrevio un po' i tempi di visione, però è interessante cercare anche di comprendere come, sebbene siano stilizzati, e sebbene siano, in questo caso, direi sintetizzati dei campi, degli alberi, dei boschi, in pochissimi tratti, però devono, ovviamente, essere equilibrati, a seconda della vicinanza che questi oggetti sono percepiti. E' chiaro che io non mi sono prefisso di compiere un discorso proprio verista, in maniera più, più classica del termine. La mia indagine è senza dubbio, è senz'altro coloristica, e quindi volevo, in questo mio video, farvi notare la possibilità, che ha il colore, di ottenere la lontananza attraverso la sfumatura del blu, e quindi di definire anche, in maniera sommaria, tutti i piani, e, ovviamente, quelli più vicini, maggiormente, e quelli più lontani, molto meno, però sempre, sempre tenendo conto di riuscire a mettere alcune pennellate, in modo tale che il nostro occhio possa percepire che qualcosa sta accadendo laggiù. E per qualcosa intendo un bosco, una radura, un qualcosa, che inconsciamente, e per esperienza l'occhio, potrà riempire con le sue immagini, e con le sue suggestioni, con le suggestioni che ognuno di noi ha, della natura che ha visto. Quindi, anche quando noi guardiamo un paesaggio di questo tipo, l'occhio, come tutte le cose che vede, cerca un po' di riconoscere, nella sua memoria, qualcosa da potergli affiancare, poter dire, ecco sì, quella cosa è questa, e la conosco. Ecco perché, ad esempio, molta arte astratta, o molta arte formale, o informale, non viene riconosciuta dall'occhio, come la rappresentazione di qualcosa, perché l'occhio non ha termini di paragone, nella realtà. Mentre, quando vede un dipinto, anche se accennato di qualcosa, ma riconoscibile, riesce a farsene una ragione, e ad accettarlo, come rappresentazione di qualcosa. Mentre, è importante poter sapere, che anche in un dipinto come questo, semplice, perché non ha una costruzione particolarmente innovativa, e straordinaria. Però, anche in un dipinto semplice, come questo, vi sono delle parti, in cui, io, cerco di rappresentare il segno, per se stesso, e non tanto per rappresentare ciò, che vuole rappresentare. Per quello che, un dipinto come questo, non finirà mai, o non potrebbe finire mai, e quindi lo determiniamo noi, determiniamo noi la sua fine. Mentre, se io prendo un'immagine preconfezionata, e dico che il mio fine è quello di avere questa immagine sulla mia tela, io compio un'operazione che non ha assolutamente via di scampo. Mentre, quando noi facciamo ricerca pittorica, e traduciamo dalla realtà qualcosa di nostro, ma anche tramite una fotografia, perché anche le fotografie servono a noi, come spunto, e come sistema di ricerca, insieme agli appunti che possiamo prendere, ecco, quando noi, invece, ricostruiamo qualche cosa, il termine proprio di finitezza, la finitura che noi diamo a un determinato dipinto, è una questione assolutamente, estrettamente personale ed è legata alla nostra sensibilità. E quindi, questo è quello che io mi sento di dire per qualsiasi dipinto che io presento in tutti i miei video che faccio qua sul canale. Naturalmente, vi sono moltissime diversità da quello che io faccio, da quella che è forse la mia ricerca pittorica, però non tante. Diciamo che l'approccio è assolutamente lo stesso. Ecco, vedete, per esempio, adesso io non uso il giallo per riuscire a schiarire un determinato punto, ma anzi, l'opacizzo. L'opacizzo per rendere quella luce un po' uniforme che mi suggerisce quasi uno spostamento delle nuvole e ogni tanto una copertura delle nuvole che va e che viene dal sole. E poi mi suggerisce freschezza, mi suggerisce questo fresco che altrimenti l'uso del giallo mi impedirebbe e mi costringerebbe a valutare una parte forse più pesante nella parte più vicina a noi del terreno che non mi piace poi, non mi piacerebbe avere con questo tipo di tonalità. Ecco, è per quello che io agisco con il bianco, però si può fare con tutti i colori che vogliamo, anche con i gialli chiari, però bisogna partire anche dal presupposto che questo è un dipinto che noi non chiamiamo alla prima, naturalmente, perché ovviamente c'è stata una prima stesura e poi una seconda stesura sopra la prima, quindi non si può dire che sia un dipinto alla prima, però ci sono certi termini di cui io non abuserei più di tanto. Direi che il dipinto va costruito a seconda dei tempi e delle necessità di cui noi possiamo tenere conto che ci possa poi servire. La mia intenzione è quella di parlare del colore della pittura, avendo la possibilità di poter fare un dipinto e terminarlo o almeno a dichiararlo a buon punto per essere considerato rappresentativo di qualcosa. E' chiaro che la pittura è moltissimo altro, però non riesco a poter pensare di fare altrimenti pittura, e c'è magari una pittura più realista, più con uno stile ancora più accademico, perché i tempi sarebbero molto molto lunghi. Ecco, io spero, attraverso questo tipo di pittura, di riuscire a parlare del colore e dell'approccio fondamentale che dobbiamo avere davanti a un'opera e quindi ad iniziare, per iniziare un'opera. Quello che per me importa ed è fondamentale è l'approccio all'opera, a come noi ci decidiamo e utilizziamo le nostre capacità e il nostro bagaglio per metterlo al servizio di ciò che andremo a fare in quel momento lì. Quindi, più che sapere come si dipinge il mare, come si dipinge un fiore, come si dipinge la luna, come si dipinge il buio, la luce, come si dipingono i riflessi del metallo, è fondamentale l'approccio che noi invece dobbiamo avere con la materia e quindi il disegno è fondamentale, perché fondamentale la comprensione dell'oggetto che abbiamo davanti. Quello che ci restituisce la realtà è forma e colore e non sono più complessi di altri certi colori, ma tutti i colori hanno una loro complessità e la traduzione di essi dentro la tela, prescinde dal fatto che questi possano rappresentare la pelle, il vento, i capelli, il mare. È fondamentale che noi ci mettiamo in conto, quando noi iniziamo un dipinto, che non esiste una ricetta per dipingere il mare o una ricetta per dipingere la pelle, ma esiste quella sì una ricetta per metterci nelle condizioni di poter iniziare meglio un lavoro, che è la comprensione dell'oggetto che noi andiamo a dipingere. Ma cosa vuol dire comprensione? Vuol dire essere riusciti tramite la matita a impadronircene e della forma e dell'ombra e della luce che riflette su di essa e della luce che riflette l'oggetto su altri oggetti e dell'ombra che questo oggetto butta sugli altri oggetti, i riflessi dei colori di questo oggetto sulle ombre di un altro oggetto. Queste sono le cose fondamentali. E poi la composizione è quello che per noi deve essere importante, perché sennò dipingiamo i capelli in una maniera perché devono essere dipinti così, il mare in un'altra perché deve essere dipinto così. Quello che ne risulta è un dipinto fatto di tantissimi dipinti e di tantissimi stili uno dentro l'altro, perché in ognuno di essi noi dobbiamo andare e vogliamo andare a cercare la ricetta, ma non è così che funziona. Noi attraverso il disegno riusciamo a creare quell'omogeneità disegno che ci permette di costruire tutte le forme, tutti i colori e tutti i rapporti fra le forme e i colori nel nostro dipinto. Colgo l'occasione, nell'avvicinarsi del termine di questo dipinto, di invitarvi alla diretta live, questa volta non di martedì, ma mercoledì 26 aprile. Parleremo di Turner, però parleremo di Turner pittore ad olio, quindi lasciamo l'acquarello e entriamo dentro, a capofitto, dentro la pittura di questo straordinario artista. Vi proporrò qualche cosa che spero vi interesserà. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un mi piace al video, condividetelo sui vostri profili social e naturalmente commentate, come state facendo, in maniera straordinaria e per me utilissima, sotto la descrizione. Quindi non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e un buon 25 aprile a tutte e a tutti voi. A presto.